we come ragazzi ed eccoci al quinto video di destini continuiamo il video precedente dato che eravamo ancora sulla terra a fare la missione spiaggia dimenticata il video era a lungo quindi l'abbiamo deciso di dividere in due e ora continuiamo ciao Ehi, guardiani, sono al lavoro su una cosa fantastica. Si tratta di... Ai vostri spettri il piacere di approfondire. Ehi, guardi. Ehi, guardi. Oh. 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 Grazie a tutti. 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 Ascoltate, guardiani, secondo le nostre fonti, nelle vicinanze c'è un bersaglio di alto profilo. Sapete cosa fare. Grazie a tutti. 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 Ciao.